Mentre riflettevo su come concludere questo studio, mi è venuta in mente il nostro Salvatore Gesù e diverse esperienze che lui ha avuto con i bambini, come lui parlava con i bambini. Mi ricordo la storia, l'avrò detto tante volte, però vale la pena ripetere, di un evangelista che era rientrato da una campagna di evangelizzazione e il collega chiedeva come è andata la campagna di evangelizzazione e questo predicatore ha detto va bene, tre persone e mezzo si sono convertite. Come tre persone e mezzo? Vuol dire tre adulti e un bambino? No, ha detto tre bambini e un adulto. Quando erano conosciuti Gesù da grandi, purtroppo abbiamo già bruciato una grande parte della nostra vita. Quando invece un bambino, un piccolo bambino, arriva alla fede in Cristo Gesù, ha tutta la vita avanti per vivere per la gloria di Dio. Dobbiamo capire i nostri bambini come li capiva Gesù, che ebbe molto contatto con dei bambini e vedremo tre parole diverse, o forse quattro, che descrivono i bambini nelle scritture, i figli. Però questa prima domanda, come comprendiamo i nostri bambini, noi grandi? Io adesso da nonno posso dire benissimo perché stanno con noi la giornata, poi li mandiamo a casa, poi noi dormiamo otto ore. E so che per i genitori con figli piccoli non è così. E certe volte, mi ricordo benissimo, quei anni, parlo di 40 anni fa, quando da genitore mi si è presa una disperazione per un figlio che non dormiva. Una disperazione. E certe volte guardiamo ai nostri figli come sbagli, errori, impicci e per questo molte giovani coppie, anche ragazze non sposate che vivono nella fornicazione, scelgono di uccidere i loro bambini quando vengono. E questo non è accettabile, sappiamo. I bambini sono un dono di Dio. Un dono di Dio. E se vogliamo capire come noi dobbiamo rispondere verso loro e pensare verso loro, bisogna andare indietro nell'Evangelio e vedere la vita di Gesù. Vedremo insieme diverse situazioni. Prima di tutto c'è una parola che viene usata dal greco paida, che parla di un bambino, però può descrivere un piccolo bambino fino all'adolescente. Quindi quando viene usata questa parola non è sempre un piccolo piccolo bambino, come pensiamo noi, ma potrebbe anche arrivare all'adolescenza. Troviamo il primo episodio in Giovanni 4, 43, Giovanni 4 e 43, dove Gesù sta in Galilea. E qui devo confessare, mi sono fidato di un nuovo testamento in italiano cronologico che ha messo questo episodio prima della chiamata dei discepoli, per cui dopo ho scoperto che avevo stampato tutto, che era sbagliato quello. Però quindi trovate sullo schema una striscia che cancella. Prima troviamo Gesù che guarisce il figlio di un ufficiale. Leggo da Giovanni 4, versetto 43. Trascorsi quei due giorni, egli partì di là per andare in Galilea, poiché Gesù stesso aveva attestato che un profeta non è onorato nella sua patria. Quando dunque andò in Galilea, fu accolto dai Galilei perché avevano visto le cose che egli aveva fatte in Gerusalemme durante la festa. Essi pure, infatti, erano andati alla festa. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua e il vino, quindi era il suo primo miracolo. Vi era un ufficiale del re, il col figlio era infermo a Capernaum. Come gli ebbe udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio, perché stava per morire. Perciò Gesù gli disse, se non vedete segni e miracoli, voi non crederete. L'ufficiale del re gli chiese e gli disse, Signore, scendi prima che il mio bambino muore. Gesù gli disse, va, tuo figlio vive. Quel uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. E mentre già stava scendendo, i suoi servi gli andarono incontro e gli dissero, tuo figlio vive. Allora egli domandò loro, a che ora avesse cominciato a star meglio? E adesso gli risposero, ieri, all'ora settima. La febbre lo lasciò. Così il padre riconobbe che la guarigione era avvenuta nell'ora che Gesù gli aveva detto, tuo figlio vivrà. E credette in lui con tutta la sua casa. Gesù fece questo secondo segno miracoloso, tornando dalla Giudea in Galilea. Preghiamo. Padre, chiediamo in questi momenti che apriamo la tua parola, che lo Spirito tuo possa guidarci, che possiamo comprendere la mente del Signore Gesù, anche come i genitori, come i nonni, possiamo comprendere meglio i nostri figli, i nostri bambini. Per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Interessante è che quest'uomo sta dicendo mio figlio. E questa parola figlio è una parola che significa dalla discendenza, proprio figlio mio, è nato da me, mio figlio, il figlio che io ho generato. Però più tardi, quando parlano gli altri, a lui, lui dice poi al Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. E con quella parola bambino capiamo che era abbastanza piccolo, non era grandissimo questo figlio suo. E stava morendo. E Gesù ha avuto compassione. Quando è nato Jonathan, un mio professore mi ha detto imparerai più teologie da questo figlio? che ha imparato nella nostra università. Non ci credevo, ma è vero? Non solo perché è diventato un grandissimo predicatore, che imparava sempre da lui quando predica, ma un figlio ci insegna la fiducia nel Signore. Quante sono le volte che tieni tra le braccia un bambino con la febbre alta e dici, Signore aiutaci, non sappiamo che fare, non sappiamo come affrontare questo problema. Aiutaci! Così i figli ci costringono certe volte, nei momenti di disperazione, di rivolgerci al Signore. E questo è buono. Così anche quest'uomo, nella disperazione di un figlio malato, aveva solo una persona a cui si poteva rivolgere, Gesù. E ha trovato in Gesù guarigione, poi, per suo figlio. Quante volte abbiamo pregato che il Signore intervenisse nella vita dei figli e abbiamo visto veramente la grande grazia di Dio in queste cose. Poi troviamo Gesù in Marco 9, che risuscita addirittura una figlia morta. in Marco 9, e di nuovo è la stessa parola per bambino che abbiamo visto prima. Marco 9, 17. Uno della folla gli rispose, Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto. E quando si impadronisce di lui, dunque, dovunque sia, lo fa cadere a terra e gli schiuma, scride i denti, rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo schiacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse a loro, O generazione incredula, fino a quando sarò con voi, fino a quando vi sopporterete, sì, sopporterò, portatelo qui da me, che gli ho condussero, come vede Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre da quanto tempo gli è veniva questo e gli disse dalla sua infanzia e spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire, ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. e Gesù disse, e Gesù disse, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò, io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, venendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo dicendogli, spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì. Il bambino rimase come morto e quasi tutti dicevano è morto, ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli li dobbiamo andare in privato perché non abbiamo potuto schiacciarlo noi e gli disse loro questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera. E qui, come vedete, era un maschietto, non una femminuccia, ma in questa situazione troviamo una frase bellissima che mi incoraggia molto. Non sono mai come padre, come marito, come nonno, come credente stesso. Certe volte crediamo veramente, però siamo deboli nella fede. E lui dice a Gesù io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. E quante volte il Signore ci chiama in situazioni difficili che quando noi non capiamo pensate di avere un figlio indemoniato ma di questo non si parla oggi tanto. E' interessante nell'Apocalisse quando parla di demoni, quando parla di persone sotto l'influenza di demoni usa la stessa parola che noi abbiamo per droga droga. Quanti giovani crescono e si buttano anche giovani da buone famiglie in mezzo alla droga e certe volte i genitori arrivano a una disperazione chiedendo al Signore di intervenire. Forse come questo padre che ha detto a Gesù io credo però aiuta la mia incredulità aiuta la mia incredulità e quindi Gesù ha dato nuova vita a questa persona. Invece in Matteo 17 14 Matteo 17 14 troviamo un'altra situazione è la stessa descrizione di questa situazione però in questo episodio non riporta quella frase dal padre però ci specifica che questo ragazzo era un ragazzo e usando quella parola che parla fino all'adolescenza era abbastanza piccolo in questo episodio dove Gesù ha intervenuto nella vita di un bambino come risultato della preghiera dei genitori. Io spero che voi avete l'abitudine di pregare per i vostri figli di chiedere al Signore di intervenire nella loro vita certe volte pensano tanto li portiamo alla scuola dominicale ci penseranno i maestri della scuola dominicale no lo faranno e fanno un bellissimo lavoro coi figli però il primo compito è nostro come genitori di arrivare ai nostri figli con la parola di Dio vediamo anche un altro episodio in Matteo 18 dove Gesù interviene Matteo 18 versetto 2 dove i discepoli discutevano discutevano la loro grandezza la loro importanza si vantavano forse erano gli stessi che avevano impedito e impedivano i bambini di venire a scocciare Gesù versetto 2 egli chiamato a sé un bambino e questa è la parola sempre paida la parola che parla di un bambino tra piccolo fino all'adolescente e dice in verità vi dico se non cambiate e non diventate come i bambini non entrerete nel regno dei cieli chi pertanto si farà piccolo come questo bambino sarà lui il più grande nel regno dei cieli e chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio riceve me ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me meglio meglio per lui sarebbe che gli fosse pesa al collo una macchina dal molino e fosse gettata in fondo al mare guai al mondo a causa degli scandali perché è necessario che avvengano degli scandali ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene se la tua mano e i tuoi piedi ti fanno cadere in peccato taglili e gettateli via da te meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno se il tuo occhio ti fa cadere in peccato cavolo e gettalo via da te meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli perché vi dico gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del padre mio che è nei cieli perché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto che ve ne pare se un uomo ha cento pecore uno di questi smarisce non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita e se gli riesce a ritrovarla in verità vi dico che egli si rallegra più per questo che per le 99 che non si erano smarrite così il padre vostro è nei cieli che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca pensate questo del 99 pecore Gesù stava parlando applicando questo all'amore per i bambini per la conversione dei bambini in questo brano Gesù mette in evidenza quanto era importante per lui un bambino un bambino certe volte noi i bambini dai vai giocare che abbiamo da fare magari anche un bambino viene con una domanda chiedendo qualcosa importante e siamo impegnati non mi disturbare sto guardando facebook sono impegnato non mi dare fastidio e li mandiamo via quando invece il cuore di quel piccolo magari sta avendo i primi pensieri verso l'eternità verso Dio verso il peccato e ha bisogno di una risposta in questo brano di nuovo è la stessa parola che parla di un bambino piccolo fino all'adolicente però dice prima i bambini sono un esempio di fede per i salvati per chi si umilia e diventa come loro Gesù dice guardate questi bambini se voi non avete la fede di questi bambini non entrerete nel regno di Dio mi ricordo un episodio quando ero bambino ragazzo c'aveva un fratellino e siamo andati a dare una mano a un contadino a fare dei lavori e a fine giornata ci ha dato un auspicio di 50 centesima che in quei tempi erano tanti e mi ricordo benissimo io ho preso quei 50 centesimi e ho pensato adesso devo fare un po' di spiccio perché non mica posso dare tutto al signore domenica invece ho visto mio fratello che ha preso quel 50 centesimo e l'ha messo tutto nell'offerta mi ha colpito questo fatto il suo desiderio la sua spontaneità di dare la gioia di dare non importava che non teneva per se stesso qualcosa lo dava al signore i bambini sono spontanei sono peccatori sono nati con la natura del peccato però non hanno sperimentato tante di quelle cose per renderli scettici e quando sento un genitore che dice sta buono se no il lupo ti viene a mangiare mamma mia quel bambino imparerà una volta che i genitori lo mentivano che non esisteva quel lupo quanto è importante per un genitore essere onesto onesto con i figli loro sono esempi di fede non hanno avuto esperienze negative nella vita loro non hanno il problema nel chiedere al signore l'impossibile perché Dio scusate se ogni tanto parlo anche del passato ma purtroppo ciò sono un po' di pante abbiamo detto stamattina 70 anni un Natale qui sapete che nevica raramente grazie a Dio qui e mi ricordo i figli erano piccolissimi ma verso novembre ogni sera quando li mettevamo a letto pregando Dio Signore Gesù fa sì che possa nevicare per Natale io dicevo sì gli devo spiegare che a Dio non interessano queste cose ogni sera ogni sera ci siamo alzati la mattina di Natale era tutto coperta di neve e il Signore mi ha insegnato una cosa non dobbiamo minimizzare la fede di un bambino anzi dobbiamo copiarla dobbiamo vivere come loro dobbiamo avere una fiducia cieca assoluta nel nostro Padre celeste come loro e Gesù dice se non abbiamo fede così non entreremo nel Regno di Dio poi i bambini rappresentano Gesù se sono accolti nel suo nome se uno dà un bicchier d'acqua a uno di questi piccoli nel nome mio è come se lo dovesse a me dice Gesù quindi qualche volta pensiamo dei piccoli mostri ma non sono mostri sono creati dall'immagine di Dio e Dio li ha messi nella nostra vita perché noi potessimo conoscerlo perché noi potessimo conoscere fiducia in Lui in Lui quindi quando offriamo quando un atto di bontà come se lo facessimo per Gesù per questi piccoli bambini che qualche volta ci mandano proprio ai limiti della sopportazione io so come chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio riceve me riceve me ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me meglio per lui sarebbe che gli fosse appeso a collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare stiamo stiamo vivendo un dramma nei nostri giorni sentire di quanti bambini sono stati violentati dai loro capi religiosi da persone che si fidavano purtroppo capita anche in una chiesa come la nostra e qui c'è un avvertimento molto forte la parola scandalizzare vuol dire portare ad inciampare ingannare e un bambino con tanta fiducia in un uomo in un nonno in un amico di famiglia in qualcuno a cui ci tengono con tanta fiducia molto spesso diventa preda per le cattiverie le sporcizie di queste persone depravate qui c'è un avvertimento molto forte chi causa un bambino di cadere inciampare e non sto qui a dare una lezione sulle conseguenze dell'abuso fisico e sono tante tutta la vita chi fa questo si deve preparare per una finaccia una finaccia di giudizio per aver fatto inciampare un bambino ma altre volte altri modi per far inciampare i bambini se noi educavamo i bambini a sapere che lo sport è più importante della chiesa si c'è le partite domenica va bene andiamo a giocare preghiamo un'altra volta se educiamo i figli di sapere che le cose materiali sono le cose più importanti nel mondo nel mondo stiamo causando i nostri figli a inciampare perché stiamo creando in loro dei valori tutti sbagliati siamo noi responsabili per questo e Gesù dice chi avrà scandalizzato causato di inciampare uno di questi piccoli che credono in me meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa con una macina di mulino vedete prima di tutto i bambini possono credere in Gesù un bambino può capire io quando penso alla grazia della mia vita sin da piccolissimo che ho conosciuto Gesù rimango sempre per questo quando vedo io vedo un bambino di 5 anni 6 anni ma che cosa avrà capito invece mi ricordo come se fosse ieri sera ancora mi sono in genocchiato accanto al letto chiedendo Gesù di salvarmi noi siamo responsabili come genitori come nonni ad educare i nostri figli noi non li possiamo salvare solo Dio può salvare ma dobbiamo creare un terreno fertile intorno a loro per poter ricevere il messaggio di Cristo quando arrivano a credere in lui i piccoli bambini e qui uso la parola macron anzi che figlio però vuol dire i piccoli i piccoli bambini non devono essere disprezzati non devono essere disprezzati certe volte bisogna stare attenti ho visto stavate un piccolo mio nipote ha quasi preso sotto Giuseppe nella corsa per andare alla scuola medicale però i piccoli bambini veramente non devono essere disprezzati e noi genitori certe volte parliamo di cose di cui i bambini non hanno bisogno di sapere niente davanti a loro tanto sono bambini non capisco niente capiscono ascoltano sentono e se un bambino cresce sentendo a tavola domenica il pastore arrosto messaggio cattivo non ho capito niente quella persona in chiesa mi dà fastidio se i bambini crescono sentendo queste parole che cose diventeranno da grandi diventeranno come i loro genitori con una critica un pensiero negativo verso il popolo di Dio quindi stiamo molto attenti perché i bambini non devono essere disprezzati sono dei grandi in un piccolo corpo io vedo i miei porti vedevo già i miei figli ma molto spesso loro ragionavano molto bene ragionamento che tu dici un bambino non può ragionare così perché no ha un cervello come te anzi forse più intelligente io vedo i bambini come fanno col telefonino mamma mia non devono essere disprezzati qualcuno dice io veramente non ho nessun peso per i bambini non è un dono mio i bambini hanno bisogno hanno bisogno di più dei genitori credenti degli zii delle zie credenti persone che li vogliono bene che li accogliano persone che sono pronte come quelle che stanno lavorando in questo momento a rinnegarsi il piacere di ascoltare un messaggio per dare la parola di Dio ai piccoli bambini per spiegare a questi bambini forse per la prima volta nella loro vita l'amore di Gesù che privilegio ma stiamo sempre cercando più persone perché lo capisco è bello stare qua però più che ci sono che si impegnino così con i bambini il meno che deve pesare poi è un è un privilegio pensate di poter spiegare ad un bambino l'amore di Gesù per lui questi bambini sono rappresentati dagli angeli loro davanti al trono di Dio pensate i bambini che credono in Gesù i loro angeli stanno davanti al trono di Dio per loro per loro e noi non li dobbiamo accogliere noi non li dobbiamo amare apprezzare valorizzare poi i bambini toccati dalla grazia di Dio possono avere un cuore tenero verso le cose di Dio questo è bello quando un bambino non ha tanti preconcetti crede e basta crede e basta e c'è un bellissimo esempio in Giovanni 6 di un bambino così pensate di una mamma lei c'ha da fare sta facendo il bucato c'ha da fare il caso però Gesù sta venendo vicino e lei dice al bambino facci tu facci tu ascoltare certo è brutto per un genitore mandare un figlio in chiesa e non andarci è brutto però allo stesso tempo almeno almeno questa mamma ha mandato il bambino per ascoltare Gesù e gli fa un piccolo pranzetto pranzo al sacco cinque pani e due pesciolini dai puoi mangiare questo torni stasera c'è la cena eccetera lui va lì e c'è Gesù davanti a una folla immensa che predica che predica a un certo momento è tempo di mangiare e Gesù dice ai discepoli allora dobbiamo andare a mangiare a queste persone proprio come a casa mia quando chiamo ora a casa e dico Rachele abbiamo tre persone in più a pranzo oggi quattro persone in più a pranzo maestro ma non c'è nemmeno un negozio qui vicino come facciamo e non so se che le scritture non ci dicono questo ma non so se il bambino stare lì vicino stava ascoltando prima Gesù poi ha sentito un po' questa conversazione questo bambino che sapeva che Gesù aveva già fatto dei miracoli Gesù aveva fatto tante cose meravigliose chissà se quel bambino spinto dall'amore per Gesù è andato a un discepolo scusi ma io c'ho questo pranzo a sacco va bene puoi aiutare posso dare il mio pranzo per Gesù e da quel pranzetto a sacco hanno dato da mangiare 5.000 uomini più donne e bambini quindi una 15.000 persone come niente tutto perché un piccolo bambino e la parola qui è bambino poteva avere 10 anni 11 anni questo piccolo bambino ha dato il suo pranzo non si interessa ma dopo se non ce l'ho io come faccio io non ha pensato a questo non ha pensato a niente solo che c'era un bisogno lui aveva qualche cosina noi disprezziamo quando i bambini mettono 20 centesimi nell'offerta disprezziamo quando un bambino mette spiccioli assolutamente no un grande dono che viene dal loro cuore e così questo bambino donando il suo pranzo è stato il mezzo per cui Gesù poi ha dato a mangiare a 15.000 persone dobbiamo correre perché l'ultima parte è più per guardare anche noi stessi anche noi siamo figli siamo figli di Dio per fede quando crediamo in Gesù invece la parola figlio in Giovanni 1 è una parola tecnica che vuol dire discendente figlio diretto dal padre erede bellissimo quando riceviamo Gesù in contrasto a quelle che l'hanno rispinto i suoi quando riceviamo Gesù diventiamo figli diretti generati da Dio noi come figli Giovanni 11 dice noi siamo il motivo della sua morte Gesù è morto per noi per noi essendo poi figli di Dio e qui è un'altra parola che parla di figli legittimi legali noi siamo figli anche della luce se siamo figli di Dio siamo figli della luce in contrasto a quelli che vivono nelle tenebre in Romani 8 dice siamo figli e anche eredi di Dio figli e eredi quello che noi siamo in Cristo e siamo eredi eredi di Dio eredi con Cristo poi primo coriniti 14 è interessante dice di non essere più bambini cioè di essere bambini nella semplicità che vuol dire un bambino crede se tu dici a un bambino di andare a prendere un biscotto che sta sul tavolo lui ci va perché sai tu l'hai detto sta lì e va lì crede ma non dobbiamo essere immaturi come neonate e questa è un'altra parola che utilizza per neonati non dobbiamo invece come credere immaturi ma uomini maturi per quanto riguarda il pensiero per quanto riguarda l'ubbidienza alla parola di Dio noi che siamo genitori abbiamo un obbligo di provvedere per i nostri bambini di nuovo questa parola che parla dei bambini fino all'adolescenza dobbiamo provvedere per loro dobbiamo sacrificarci per loro tu ti lamenti che ti devi sacrificare per i tuoi figli pensa a chi non ne ha pensa a chi non ne ha è il nostro compito di sacrificarci non che i loro i nostri figli devono sacrificarsi per noi ma noi per loro interessante nei proverbi dice che un buon uomo lascia una rarità non dice ai figli dice ai figli dei suoi figli ai nipoti quindi è così Jonathan noi che siamo figli di Dio per natura che siamo nati da Lui generati da Lui tramite i figli in Cristo siamo anche eredi quanti noi abbiamo come figli di Dio e poi infine noi che siamo stati adottati nella famiglia di Dio siamo stati adottati non come bambini immaturi dice e questa è la parola per neonato immaturo ma come figli maturi con tutti i diritti e dice questi figli diritti di figli maturi chiamano Dio babbo babbo quel modo molto caro di riferirsi al padre non l'immagine del padre ma del babbo l'amore che c'è verso papà e noi in Cristo anche se eravamo nati nella famiglia di Satana nati fuori la grazia di Dio perché Cristo è morto per noi siamo stati adottati siamo stati presi e dati alla nostra adozione un certificato che dice c'hai tutti i diritti di un figlio maturo un figlio un erede maturo e noi abbiamo questo in Cristo Gesù allora riflettiamo sui nostri bambini come li vediamo dobbiamo vedere come Gesù li vedeva dobbiamo capire l'importanza che loro anche hanno nella vita e che possono avere anche per noi anche nel portare qualche genitore a veramente credere in Gesù l'importanza e allo stesso tempo non dimentichiamo adulti che siamo tutti figli siamo figli di Dio per fede siamo responsabili davanti a Lui per come viviamo la nostra vita per la sua gloria la mia preghiera per la nostra chiesa è che possiamo vedere sempre di più dei bambini che arrivano veramente a comprendere l'amore di Gesù certo li dobbiamo educare non li possiamo mandare fuori così ma li dobbiamo educare e che possano crescere nella loro conoscenza di Dio e allo stesso tempo che noi genitori non ci dimentichiamo mai che anche noi siamo figli e siamo responsabili davanti al nostro padre se tu non puoi chiamare Dio tuo padre oggi ti prego solo di riflettere su quello che Gesù ha fatto per te tu puoi essere adottato tu puoi entrare nella famiglia di Gesù di Dio per fede Gesù che è morto sulla croce per noi preghiamo padre grazie per i nostri figli per i nostri nipoti per tanti bambini che abbiamo qui nella chiesa aiutaci a riapprezzarli sempre di più e impegnarci sempre di più per loro perché noi ce ne andiamo loro rimangono e vogliamo che questa testimonianza vada avanti per la tua gloria perdonaci per le volte quando non li trattiamo come dovremmo trattarli aiutaci ad impegnarci e sacrificarci per loro perché possono creare